Alcol, da sempre oggetto di dibattiti per la sua influenza sulla salute. Io sono Patrizia Landini, giornalista e divulgatrice di Salute Benessere. I risultati di una ricerca hanno mostrato che un consumo moderato di alcol è correlato a un notevole calo degli eventi cardiaci, specialmente tra le persone che soffrono di ansia e paure e il fulcro di questi benefici sembra proprio essere il cervello stesso. Le analisi cerebrali hanno mostrato che coloro che consumavano alcol in modo leggero avevano una minore risposta allo stress nell'area dell'amigdala, la parte più antica del cervello coinvolta nella gestione delle emozioni. Naturalmente gli effetti positivi devono essere considerati insieme ai rischi potenziali, tra cui l'aumento dei marker di infiammazione. Al prossimo episodio Al prossimo episodio Al prossimo episodio Al prossimo episodio